La siringa Andreani è stata progettata oltre che per dare un'idea di maggiore professionalità anche per rendere più semplice e più immediata un'operazione molto nota ai preparatori di sospensioni quella appunto della regolazione del livello dell'olio. Questa è un'operazione che viene fatta continuamente sia dai tecnici in pista sia dopo ogni revisione o service che facciamo alle forcelle. Con la siringa questa operazione viene effettuata semplicemente selezionando il valore della quantità di olio desiderata nell'asta graduata inseriamo la siringa nella forcella utilizzando il piattello centrale per mantenere compressa l'asta a questo punto non dobbiamo altro che comprimere la siringa essa risucchierà al suo interno l'olio e la quantità interna alla forcella sarà automaticamente regolata. Per ulteriori info non esitate a contattarci o scriverci all'indirizzo mail che trovate nel sito. Grazie. Grazie.